Radio S, speciale festival internazionale del film di Roma. Siamo al festival internazionale del film di Roma con Liu Binjian, regista di Bei Mien, in inglese The Back, film cinese selezionato in concorso, e con noi Elena Pollacchi che ci aiuterà a fare da interprete. Io comincerei con una domanda sulla genesi del film che è tratto da un romanzo e ho letto che nella storia originale era presente anche una storia d'amore, però lui ha preferito toglierla, quindi comincerei chiedendogli di questo. Sì, quando ho letto appunto il romanzo dieci anni fa mi aveva colpito la storia d'amore che si svolgeva in questo contesto, ma ovviamente nei dieci anni trascorsi incessantemente il mio lavoro è stato quello di inserire nella vicenda la mia vicenda personale, tanto che adesso probabilmente il film che vedete appunto dove non c'è più la storia d'amore è in realtà il film che racconta la mia riflessione sulla Cina contemporanea e il processo stesso attraverso il quale in questo decennio ho in qualche modo elaborato il passato che avevo vissuto e che avevo raccolto in quella vicenda del romanzo e che poi è diventato appunto la mia visione della Cina di oggi. Ecco, gli chiederei a questo punto qualcosa sulla sua biografia, cioè in che zona della Cina è cresciuto e se quindi mi pare di sì la rivoluzione culturale che si è svolta negli anni della sua adolescenza ha avuto un peso importante, quindi anche che giudizio dà a questo evento storico. Io sono nato negli anni Sessanta, all'inizio degli anni Sessanta per cui di fatto quando è scoppiata la rivoluzione culturale andavo a scuola e era ancora un ragazzino però all'epoca appunto mi piaceva molto dipingere e dipingevo continuamente ma ovviamente quello che vedevo attorno a me e le immagini che erano ovunque sui quaderni, su qualsiasi materiale non erano altro che ritratti del presidente Mao e quindi in qualche modo anch'io continuavo, contribuivo a ritrarre e questo è rimasto appunto in me come ovviamente un ricordo molto forte insieme al fatto che avessi spesso la sensazione che poi se disegnavo in modo sbagliato avrei probabilmente ricevuto un rimprovero, quindi non era solo un modo per dipingere quello che volevo ovviamente all'epoca per me dipingere era una cosa molto spontanea, molto naturale non leggevo romanzi, non conoscevo altro ma quando poi sono andato dalla provincia dove sono cresciuto, lo Anhui, fino a Pechino per poi studiare alla scuola di cinema di Pechino questi ricordi probabilmente si sono naturalmente trasformati nel mio desiderio di raccontare anche attraverso il cinema quello che era stato il mio passato, il mio vissuto e quindi così come era naturale dipingere è diventato anche naturale nel cinema trasportare questa mia esperienza e ancora appunto devo aggiungere rispetto a quanto ci diceva prima Liu Pingjian che all'epoca appunto della rivoluzione culturale anche quando ero ragazzino sentivamo ogni tipo di storia fino al punto da sentire gente che raccontava di come si fosse cucita sul petto l'immagine di Mao quindi a di là del fatto appunto che il tatuaggio nel film possa essere